Imprigionato nel meta-universo, Sua Eccellenza Benito Mussolini viaggia nel tempo, giungendo a 1960 a Torino per incontrare il re dell'occultismo Gustavo Roll. Il Caffè Parigi. La città richiama lo stile della capitale francese. Il duce degusta un caffè ma sente la presenza di Roll che si prende giuoco di lui, facendo rivolgere lo sguardo al giornale sul tavolo. La guerra preventiva del 1943, scatenata da Stalin contro la Germania di Hitler, ha spinto l'America di Roosevelt a supportare la causa nazista con un continuo invio di armi. Dopo la morte del Führer per un indigestione di barbabietole, gli Stati Uniti decidono di unire l'Europa sotto una sola bandiera e moneta. Alla sua testa Ursula von Hitler, nipote prediletta del Führer, che per vendicare la morte dello zio vara il 173esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, facendo piombare l'Europa in una recessione cronica. Il futuro del continente è appeso a un filo e solo una persona può salvarlo dopo la pausa caffè. Mussolini!